Lui in quelle condizioni in ospedale, io col Covid da casa, quindi sola anche io. Dopo 15 giorni ci siamo incontrati, si è squarciato il cielo. Ha presente due anime che si incontrano e si saldano? È un amore che dura da oltre 30 anni, quello tra Sergio e Patrizia, adesso divisi dal Covid. La donna però non si è mai arresa e oggi lancia un messaggio di speranza che va ben oltre la malattia. Entrambi 52 anni, lei maestra, lui istruttore di guida, si erano ammalati insieme, ma con una risposta diversa, Patrizia in forma lieve, Sergio invece più seriamente. E per lui il 15 febbraio è iniziato il calvario nel reperto di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. La solitudine, questo distacco dai cari, dalla famiglia, è molto pesante. Una volta guarita, Patrizia non ci ha pensato due volte ed è andata a trovare l'amato marito. Bardata di tuta ed altri dispositivi, la donna però non avrebbe mai immaginato che l'incontro potesse andare in quel modo. Con le mascherine la voce cambia, è totalmente coperta, ovviamente non mi ha riconosciuto. Ma Patrizia non è di certo una donna che si scoraggia facilmente. Ha così subito chiesto ai medici di stampare una foto sul cui scrivere dentro la tuta. Ci sono io. Io faccio la maestra della scuola dell'infanzia, lavoro con i bambini e lavoro soprattutto nei sentimenti. E so benissimo che l'immagine non ha bisogno di essere accompagnata da parole quando è un'immagine incisiva. E quindi lì mi giocavo il tutto per tutto, perché ero determinata e disperata a voler togliere mio marito di lì. Non c'è stato bisogno di proferire parola. Mi accarizzava, accarizzava la mia foto e piangeva. Insieme di emozioni e di sensazioni, non è semplice per descriverle, insomma. Finalmente oggi Sergio sta meglio ed è stato trasferito nelle cure intermedie di Agazzi, consapevole che le cure dei medici salvano la vita, ma che anche l'amore può dare un aiuto in più per guarire. Ha una determinazione, è una componente penso fondamentale per poter far sì di superare quelle fasi che sono lunghe, è veramente una donna fantastica.